Dall'iniquità alla salvezza di Gesù Cristo è il percorso della conversione che Papa Francesco disegna nella sua omelia nella messa a casa Santa Marta. La conversione, afferma, è un compito, un lavoro di tutti i giorni, molto simile, come indicava San Paolo, allo sportivo che si allena. Un lavoro che è servizio al Signore con il cuore, il corpo e l'anima che apre la porta allo Spirito Santo. È Lui che entra in noi, soggiunge il Papa e ci salva. Lui è il dono in Gesù Cristo. È un cammino a piccoli passi che ci aiuta a non tornare all'iniquità, ma ad andare avanti, confidando sempre nella preghiera e chiedendo al Signore la grazia di essere bravi in questo allenamento della vita. Un procedere verso l'incontro dopo aver ricevuto il dono dello Spirito in Cristo Gesù. Alcuni mesi fa ho trovato una donna giovane, madre di famiglia, una bella famiglia, che aveva il cancro. E' un cancro brutto. Ma lei si muoveva con felicità e faceva come se fosse sana. E parlando di questo atteggiamento mi ha detto, Padre, ce la metto tutta per vincere il cancro. Così il cristiano. Noi che abbiamo ricevuto questo dono in Gesù Cristo e siamo passati dal peccato, dalla vita della iniquità, alla vita del dono in Cristo, nello Spirito Santo, dobbiamo fare lo stesso. Ogni giorno un passo. Ogni giorno un passo.